Interessa la promozione di questa sera? Bene, allora te la devi guadagnare indovinando il nome del cantante o della cantante che canta questa canzone Io vorrei che fosse già pelle il contatto con te Io vorrei che fossero stelle ogni volta con te È difficile, eh? E va bene, dai, ti do un altro piccolo aiutino, però ascoltami bene questa volta Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai E allora, se adesso l'hai capito, approfitta di questa promozione L'ultima cosa ha vinto Sanremo nel 1995